Luciano Regolo, giornalista e scrittore, qui a Bagnara Calabro per presentare il libro Il Gesù di Natuzza, in Piazza Matteotti, il 19 di agosto. È un libro che, diciamo, purtroppo di cui ho potuto parlare poco quest'anno perché per la pandemia, però è un libro che ho avuto molto seguito e un po' conclude il mio impegno, diciamo, profuso per descrivere l'opera di Natuzza e la sua vita e il suo apostolato. Ne ho scritto la biografia, ne ho scritto il paragone, diciamo, con Padre Pio e ne ho raccolto le memorie da parte delle persone che più le sono state vicine e questo invece è un libro che va nel profondo del rapporto mistico da Gesù, Natuzza e Gesù, quali erano i discorsi che lei, diciamo, riferiva, quali erano i colloqui che si consumavano e questo Gesù è estremamente, estremamente umano nel rapporto con Natuzza, ma è Dio nello stesso modo. Quindi Natuzza è figlia di questo Gesù che ama profondamente, ma a qualche volta anche delle tenerezze materne verso Gesù, quindi è un rapporto particolare, complesso. A volte mi ha fatto pensare perfino a Don Camille Peppone, Mutantis e Mutandis, perché c'è una familiarità estrema. Mi è rimasto impresso in un passaggio in cui Natuzza dice Gesù mi dicono che sono pazza e lui dice anche io sono pazzo, pazzo d'amore per tutti voi e parla del fatto che lui vorrebbe salvare ogni anima, desidera salvare ogni anima, quindi c'è quella misericordia incredibile e c'è questo rapporto di medesimazione profondo che nasce fin da quando Natuzza era bambina e lei vedeva questo bambino che ogni tanto si aggiungeva ai giochi suoi e dei suoi fratellini e poi soltanto in età adulta, appunto parlando con Gesù, lui le svela di essere sempre stata accanto, era proprio lui quel bambino che vegliava su di lei quando la mamma non c'era e lei doveva prendersi cura dei fratelli più piccoli. Quindi è un percorso, un percorso spirituale ma nella quotidianità di Natuzza, di questa grande donna della nostra terra, della Calabria, che però è una donna che ha lasciato un messaggio e un'eredità spirituale universale. Non è il primo libro che Luciano Regolo presenta qui a Bagnara Calabria, possiamo parlare ormai di un legame forte? Sì, io amo molto Bagnara, è una delle perle della Calabria, a mio avviso, e questo con le cose positive perché è di una bellezza particolare, paesaggistica, anche delle cose interessanti, dei monumenti interessanti, delle chiese interessanti, delle storie da raccontare, da far scoprire. Però come tutte le cose belle della Calabria spesso non è valorizzata abbastanza e io mi auguro che le autorità locali riescano invece a valorizzare quanto di bello a questa città, che anche delle persone meravigliose che vivono qui e io l'ho scoperta attraverso appunto dei bagnaroti, credo che si dica così, che mi hanno accolto esattamente come uno di loro. Ecco, Luciano Regolo è stato, tra le tante esperienze professionali che ha fatto, è stato anche direttore dell'Ora della Calabria. Ecco, fare il giornalista in Calabria è difficile. Sì, da morire. Nel senso che è difficile pensare di portare in Calabria, diciamo, la medesima filosofia o la medesimo modo di lavorare che, diciamo, magari si è applicato in altre esperienze lavorative. Almeno per me è stato così. Questo non significa che la Calabria non abbia degli ottimi giornalisti o delle ottime penne o delle persone, però purtroppo è un discorso che coinvolge le proprietà delle testate giornalistiche, perché spesso non sono, diciamo, editori puri, non si occupano della salute del prodotto giornale, ma usano le testate per altri interessi, per altre finalità, eccetera. E questo ha provocato il lento, diciamo, degrado anche delle stesse testate giornalistiche, l'allontanamento anche del pubblico, perché alla fine poi, se non si pubblicano delle cose interessanti, la sfida oggi anche in Calabria deve essere sui nuovi media e quindi riuscire anche ad essere al passo coi tempi, anche sui social e creando delle professionalità, perché non tutti possono improvvisare una professione scrivendo sui social o mettendo, diciamo, online quello che pare. No, nel senso, sarebbe anche opportuno che anche la Calabria avesse delle scuole di formazione giornalistica. Io credo che sarebbe il momento che i poli, diciamo, universitari pensassero seriamente a fare almeno un polo, diciamo, di informazione e comunicazione che serva anche, diciamo, a veicolare la Calabria in un modo diverso, perché si parla a livello nazionale della Calabria purtroppo solo per notizie poco positive. Quanto c'è di bello, ripeto, ancora una volta, in Calabria è poco conosciuto, ma anche per nostra colpa. Appuntamente per il 19 di agosto, Piazza Matteotti, ore 21 e 30. Sì, spero che tutti intervengano numerosi. Si parlerà non solo di Natuzza, diciamo che è questo libro, ma anche di un altro libro che ho scritto sempre quest'anno, che riguarda la regina Margherita di Savoia, che è stata la prima regina d'Italia, la prima first lady italiana, una donna che, come è stato scritto, è stata la prima influencer d'Italia e quindi diciamo influenzando la moda, il costume, eccetera. E si parlerà un po' anche della mia vita professionale tra santi e teste coronate.